Buongiorno, sono Rosi Paparella e vi parlo dalla Puglia, dove lavoro con la PS Sud-Est Donne per le attività di formazione e sensibilizzazione di un'ampia rete di centri antiviolenza. Ma sono qui a nome dei tanti bambini, tante bambine che ho conosciuto in questi anni come insegnante e come garante regionale dei diritti dei minori. Loro mi hanno insegnato molto, mi hanno insegnato che il destino che spesso, ancora oggi, la cicogna consegna alla nascita, a seconda della famiglia dove nasciamo, ma a seconda della più radicale delle differenze di cui siamo portatori e portatrici, quella di genere, beh, quel destino è urgente, che proviamo a smontarlo. È un destino che ci assegna dei comportamenti predefiniti, ci assegna delle emozioni che sono legittime a seconda che siamo maschi o femmine, addirittura ci consegna delle scelte professionali differenti o più facili, a seconda del genere a cui apparteniamo biologicamente. Questo, mi dicono i piccoli, che sono dei grandi saggi, non va assolutamente più bene. Noi possiamo costruire un mondo più giusto e migliore, più libero. Lo possiamo fare attraverso l'educazione. E allora la sfida, l'impegno, la richiesta a voi ce la fate a fare uno sforzo di memoria e a ricordare quando anche voi, da bambini e da bambine, in questo mondo migliore ci credevate. È il momento di cominciare a costruirlo subito, sostenendo il progetto. È safe e normal day. Grazie.